Premiazione di 50 cittadini a Palazzo del Carmine nell'ambito del progetto Ecoattivi su iniziativa di amministrazione comunale Dasti, l'azienda che si occupa dei servizi di igiene urbana a Caltanissetta. Sono stati consegnati ai vincitori i 50 buoni del valore di 25 euro da spendere nei negozi locali. Una cittadina nissena, Franca Agricoli, ha vinto il primo premio del concorso nazionale Ecoattivi, un'auto elettrica. Stamani ha ricevuto un assegno simbolicamente in attesa della consegna della vettura. Questa è un'iniziativa che già portiamo avanti da diversi anni, un'iniziativa a livello nazionale fra cui Caltanissetta è entrata e ha dato ottimi risultati fin dall'inizio. Infatti già questa è la seconda volta in cui i maggiori premi vengono vinti a Caltanissetta. Questo perché? Perché c'è una grossa partecipazione dalla parte della cittadinanza quando riguarda il conferimento dei rifiuti presso il centro comunale raccolta, il centro comunale mobile e le varie piattaforme. Perché proprio i punti si accumulano venendo a conferire in queste isole, andando a fare una differenziata corretta o altri punteggi vengono incendivati nel cammino utilizzando la bicicletta. Quindi incendivando quella che è una mobilità sostenibile in modo da incendivare quello che è l'ecoambiente. Quindi dai rifiuti a tutto l'altro contorno per incendivare appunto l'ecosistema che come ben sappiamo stiamo rovinando. Quindi questa è un'iniziativa per incendivare la cittadinanza a rivedere il proprio modo di vedere l'ambiente circostante. Perché prima di tutto per salvare il pianeta dobbiamo pensare già dal nostro piccolo fino a poi allargare quello che è il nostro pianeta.